Siamo all'evento Andar per Sentieri, oggi 18 maggio, è la prima giornata e è andata alla grande e abbiamo qui con noi Angela, di Schitana Doc. Sono viva a Firenze da tanti anni, però sono sotto la ricerca delle mie radici e quindi... Qui al Bosco della Maddalena... Ecco, c'era questa bellissima iniziativa, devo partecipare. Sono posti che conosco già, ma sicuramente in compagnia di questi giovani schitani, entusiasti della natura... Voglia di scoprire e riscoprire la nostra bella isola. Sapranno sicuramente dirmi qualcosa di nuovo, che non sapevo. Ed effettivamente è stato così, perché l'albero delle fate è stata una... Il nostro caro cartino nero a fondo d'oglio, che ci dimostra anche tutta la storia e la geologia della nostra bella isola. Quindi ischia non solo mare, non solo turismo di terme e spiaggia, ma anche introterra, radici, alberi e vulcani. E fumarole. E poi a proposito, il papiro del... Il Ciperus polistachius, ovvero ho detto... E ne avevo sentito tanto parlare, ma è la rara pianta. Grazie a te, Maria. Grazie, grazie a Giuseppe, a Stefanie, a tutti quelli che hanno partecipato a andare per sentieri. Mi hanno fatto vedere questa cosa importantissima. Va bene, quindi invitiamo tutti a venire alle prossime giornate. Grazie a te. C'è un'organizzazione fantastica. Venite, venite. Abbiamo appena finito di mangiare dei crostini. C'è sempre alla fine di un'escussione, state tranquillissime. Sì, sì, ma... Va bene? Ciao! 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 Ciao!